Buon lunedì, 11 novembre. Il nuovo ministro degli esseri israeliano, Gideon Saar, ha tenuto oggi una conferenza stampa di presentazione a Gerusalemme. Saar si era insediato la scorsa settimana quando ha preso il posto di Israel Katz, che a sua volta ha sostituito come ministro della difesa Yoab Gallant, destituito da Netanyahu per presunti disaccordi. Una delle domande chiave a cui ha risposto Saar riguarda la possibilità di un rilancio dei cosiddetti accordi di Abramo, voluti da Donald Trump nel suo primo mandato a presidente degli Stati Uniti, con la prospettiva di una normalizzazione tra Israele e diversi paesi arabi, tra cui l'Arabia Saudita, in cambio della creazione, almeno nominale, di uno Stato palestinese, seppur con autonomia molto limitata e risorse quasi nulle. Ecco, la risposta di Saar è stata categorica. In una parola, no, aggiungendo che uno Stato palestinese sarebbe uno Stato di Hamas. Insomma, anche questa strada, che comunque avrebbe semplicemente rinnovato o aggravato lo status quo per i palestinesi, sembra non andare più bene a Israele. E infatti sembra rilanciarsi una prospettiva anche piuttosto differente, che è quella dell'annessione di parti della Cisgiordania occupata, su cui Netanyahu e Trump sarebbero allineati. Su questo, Saar ha dichiarato che non è stata ancora presa nessuna decisione. Però, al tempo stesso, il ministro delle finanze, l'estremista della destra colonica, Besalel Smotrich, sembra fiutare un clima ancora più favorevole di quello di oggi per mettere il mondo davanti al fatto compiuto, contando sulla generale assenza di conseguenze vista in questi 13 mesi di massacri a Gaza e di linee rosse sempre superate. Per Smotrich il 2025 sarà, dice lui, l'anno della sovranità in Giudea e Samaria, ovvero i termini usati dai nazionalisti israeliani per riferirsi alla Cisgiordania. Si tratta di uno dei punti chiave dell'estrema destra israeliana insieme alla rioccupazione di Gaza e sappiamo che questa corrente politica è determinante per la tenuta del governo Netanyahu, che con la vittoria di Trump pensa seriamente di rimanere in carica fino alla scadenza naturale del 2026. A proposito di Netanyahu, il suo team legale ha presentato oggi una richiesta per ritardare la testimonianza del primo ministro al suo processo per corruzione, affermando che i recenti sviluppi nella guerra gli hanno impedito di prepararsi per l'udienza. Ecco l'impressione che semplicemente Israele stia aspettando l'arrivo di Trump per mettere il mondo davanti a una nuova situazione cristallizzata. Torno ancora sulle parole di Gideon Saar, perché il nuovo ministro degli esteri israeliano ha anche dichiarato oggi, sempre nella conferenza stampa, che sono stati fatti alcuni progressi nei colloqui di cessato il fuoco per il Libano. Per Saar, il cessato il fuoco sarà possibile se Hezbollah si ritirerà a nord del fiume illitani e verrà disarmato. Il problema è che questi colloqui per ora avvengono soltanto tra Israele e Stati Uniti, mentre Mohamed Afif, il capo dell'ufficio stampa di Hezbollah, ha affermato che il partito non è ancora stato coinvolto. Per Afif c'è un grande movimento tra Washington, Mosca, Teheran e diverse altre capitali, ma siamo ancora, dice lui, nella fase di sondare il terreno e presentare idee iniziali. Per poi ribadire che qualsiasi cessato il fuoco in Libano dovrà anche essere approvato da Hezbollah. C'è però almeno un elemento nuovo oggi. Il segretario generale di Hezbollah, Naim Kassem, ha affermato che il partito è pronto per un cessato il fuoco con Israele. Un cambiamento rispetto alla precedente richiesta degli ultimi 13 mesi di un cessato il fuoco a Gaza come precondizione per uno stop alle ostilità in Libano. Saar si è rivolto anche alla Russia chiedendo che Mosca svolga un ruolo di mediazione garantendo che le armi non fluiscano a Hezbollah attraverso la Siria, dove l'esercito russo è presente in diverse località. E intanto, secondo il quotidiano libanese L'Orient Le Jour, questa settimana l'inviato statunitense Amos Hochstein dovrebbe tornare a Tel Aviv e a Beirut. E qui ci sono due versioni contrastanti. Secondo una fonte politica libanese, Netanyahu non farà alcuna concessione a Biden, che tanto presto lascerà l'incarico e anzi vorrebbe approfittare della situazione attuale e del periodo rimanente per intensificare la sua escalation militare, per raggiungere i suoi obiettivi e offrire la sua vittoria e il cessato il fuoco a Trump. Ma dagli Stati Uniti arriva invece una lettura differente, secondo cui l'amministrazione Biden potrebbe presto minacciare di sospendere l'invio di armi a Israele per costringere Netanyahu a un cessato il fuoco entro due settimane o un mese al massimo, così da chiudere la presidenza con almeno un piccolo successo diplomatico. Il problema è sempre lo stesso, è sempre più difficile credere alle presunte pressioni statunitensi su Israele di cui sentiamo parlare da più di un anno senza che niente sia stato realmente fatto. Intanto sul terreno il portavoce dell'esercito israeliano Avichai Adrei ha emesso questa mattina un nuovo ordine di evacuazione forzata per i residenti di 21 villaggi del sud del Libano, dicendo che le persone devono spostarsi a nord del fiume Awali, a nord di Saida, a circa 50 chilometri dai confini con Israele. Tutte le località, o quasi, sono state poi bombardate nel resto della giornata. E sempre questa mattina Israele ha fatto esplodere diverse abitazioni ad Aital Shab, sul confine, di Israele, continuando quindi questa opera di distruzione di interi villaggi, mentre Hezbollah ha alzato rispetto ai giorni scorsi il livello degli attacchi contro i soldati israeliani in territorio libanese, in particolare nelle zone di Marun el-Ras e Farkila. Anche oggi le persone uccise da Israele in Libano sono molte. Nella notte un attacco al villaggio di Qasr, nella Beqa, ai confini con la Siria, ha causato almeno 5 morti. E poi un bombardamento sul villaggio di Shrifa, nel distretto di Tiro, ha invece ucciso tre persone e uno su Saksahie, nel distretto di Saida, ha causato sette vittime, di cui la maggioranza donne e bambini. E ancora un attacco su Meidun, nella Beqa occidentale, ha ucciso tre persone. Nel pomeriggio poi l'Agenzia Stampa Nazionale Libanese, ANI, ha riferito che aerei israeliani hanno utilizzato munizioni a grappolo alla periferia di Frun, una delle tante armi proibite utilizzate in questi 13 mesi. Per contro Hezbollah ha lanciato almeno 100 razzi verso il nord di Israele e secondo Haaretz almeno 10 hanno colpito i loro obiettivi. Secondo i servizi di emergenza israeliani si contano per il momento 4 o 5 feriti, di cui una persona ferita in modo grave. E nel tardo pomeriggio un nuovo attacco aereo israeliano ha preso di mira una casa abitata da una famiglia siriana a Dayakub, un villaggio nella regione dell'Hakkar, quindi nell'estremo nord del Libano. Secondo la protezione civile, le vittime sono numerose ma è troppo presto per fornire un dato preciso. A Gaza invece, mentre continua l'assedio nel nord, gli ospedali sono di nuovo nel mirino israeliano, o verrebbe da dire anche ancora. I carri armati israeliani si sono infatti mossi verso 1-6-Rat nel centro della striscia, attaccando diverse aree e colpendo direttamente l'ospedale a Lauda via terra e utilizzando droni, danneggiando l'edificio amministrativo e distruggendo diversi serbatoi dell'acqua. Secondo l'ultimo bilancio sono almeno 20 le persone uccise e più di 30 quelle ferite. A Gaza City invece a essere colpito è stato l'ospedale Battista a Lahli, che era diventato, ricorderete sicuramente, tristemente famoso il 13 ottobre 2023, quando Venn è bombardato e il mondo commentò dicendo no, Israele non colpirebbe mai un ospedale. Sembra passato veramente un secolo da quel giorno. Anche l'ingresso principale dell'ospedale Kamaladwan a Jabalia è stato colpito oggi e si parla di almeno 10 persone ferite. Però teniamo conto che i dati dal nord ormai sono troppo frammentari per essere considerati anche solo vagamente attendibili. In chiusura oggi in Siria invece Israele ha lanciato un attacco lungo l'autostrada che collega Damasco a Homs colpendo, secondo l'agenzia di stampa statale siriana, un centro di raccolta di aiuti per i libanesi sfollati. Secondo Israele invece si trattava di un deposito di munizioni di Hezbollah. Anche questo, questo gioco è un copione che abbiamo purtroppo imparato a conoscere molto bene. Ci risentiamo domani, sempre con gli occhi aperti su Gaza, sul Libano e su tutta la regione.